Di questo evento la cosa che più veramente mi è piaciuta è il grande amore che c'è fra tutti noi, la connessione. Sinceramente mi sento bene, mi sento in sintonia con le persone che ci sono. Ogni volta che vengo mi aumenta proprio la fiducia, la bellezza, il fatto di essere in connessione con la fonte, mentre da soli ogni tanto ti perdi per la via. Allora innanzitutto io a tutti consiglio di lavorare su se stessi, nel senso lo so che dura, perché affinché sei inconsapevole i tuoi problemi sono quelli del mondo, perché se cambi tu cambia tutto quello che hai intorno. Allora a casa fra questi due giorni mi porterò innanzitutto un'energia ritrovata, la voglia di fare le cose, perché sinceramente se uno si perde nel mondo di tutti i giorni, poi come sono io che vado da destra a sinistra, passo dei giorni meditando totalmente degli altri che non faccio niente. Per cui eventi così mi danno la forza di vedere la parte migliore di me stessa. Ma sai che questo te lo posso solo dire con il tempo? Quando ho fatto l'intensivo Patrizia ci ha detto adesso liberatevi della vostra più grande paura. Mi sono resa conto che questa situazione non la provo più da maggio, per cui ti senti bene subito, però secondo me i risultati di Divine Connection li vedi poi col tempo. Ti rendi conto nei giorni o nei mesi successivi che certe cose non ce li hai più. Visto che queste cose non le senti con la testa ma col cuore, per cui inizialmente ti senti bene. Nel periodo che passa ti rendi conto di quello che hai lasciato andare o hai lavorato. Patrizia, ciao, ti voglio tanto bene, mi è piaciuto tantissimo questo live e ci torno volentieri. Grazie, grazie, grazie.